Lei nell'inconscio sogna sempre che arrivi qualcuno che la catturi, la blocchi e la torturi per qualche giorno. Ah, mi sta rovinando! Mi sta rovinando a torturare! Difatti qui mi torturano, sono da sola contro tutti. Secondo me se posso dire anche delle fantasie erotiche nascoste. Non indifferente! Non indifferente! Potremmo fare una conferenza di otto ore sulle fantasie erotiche nascoste del Ilaria. Posso dirne una sola? Sì, la dirà. Lei ha, come dire, si può dire qui, l'arrappamento è brutto? No, 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 parla di me, parla di Marina! No, no, di Ilaria! No, di chi parla? Di me o di Marina? Di Marina! Ilaria! 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 Ilaria inesolare, tutto alla luce! Cioè lei ha un rialzo della temperatura in aereo, ad esempio, perché c'è Marte in Sagittario. Quindi se a qualcuno capita di sedersi vicino in aereo all'Ilaria, ricordatevi che... Professore, mi sta rovinando! Mi sta rovinando! Mi sta rovinando! Mi sta rovinando! Mi sono tornato a... Ho da heart of glass! Grazie a tutti.